In questo momento di emergenza sanitaria non dobbiamo dimenticarci che ci sono persone che a casa non possono restare in quanto una casa non ce l'hanno e si trovano in condizioni di fragilità sociale. Siamo collegati telefonicamente con Don Vito Piccinonna che è direttore della Caritas di Ocesana di Bari e Bitonto. Buonasera Don Vito, grazie per aver accolto il nostro invito. Buonasera, grazie a voi. Allora, la Caritas non rimane a casa, non può rimanere a casa. Come vi state muovendo in questi giorni di grande emergenza? Sì, c'è una uoperosità della Caritas, non solo ovviamente quella di Bari e Bitonto, ma anche di tutte quelle delle diocesi pugliesi e non solo che si muovono ordinariamente. Ovviamente il problema che stiamo vivendo invita tutti quanti noi a farci ancora di più presenti. Ci piace dire che se in questo periodo è vero che purtroppo non possiamo celebrare l'Eucarestia, è anche vero che comunque possiamo celebrare e vivere la Carità, nei mille modi, nelle mille possibilità, anche rispettando le tante limitazioni che comunque dobbiamo così imporci, per non lasciare soli i già soli. Per cui ecco, mi piace pensare che i primi baluardi di questa Carità sono anzitutto le nostre comunità parrocchiali, con i loro parroci, i centri di ascolto, che in questo momento ovviamente cercano di essere attenti soprattutto alle situazioni più critiche. Penso all'impegno anche delle mense sul territorio cittadino di Bari, ci sono almeno 12 mense che appartengono un po' a diverse comunità parrocchiali, alle suore di Madre Teresa, che in maniera alternata distribuiscono settimanalmente oltre 2 mila paschi. E anche qui stiamo cercando ovviamente, con tutte le attenzioni del caso, ovviamente di non farli riunire insieme alle persone, ma di distribuire dei sacchetti, in maniera che ciascuno li possa consumare, ecco personalmente con debita distanza. Poi c'è l'impegno che abbiamo per i senza dimora, nel centro di accoglienza Don Vito Diana, che accoglie attualmente 40 persone senza dimora, H24. Si capisce bene che non è facilissimo far sì che 40 persone che normalmente vivono per strada stiano un po' all'interno di queste strutture. Non è facile, perciò un grazie enorme va agli operatori e ai volontari che cercano di garantire non solo i servizi minimi, essenziali, ma anche quel di più di compagnia e di vicinanza, di cui questi nostri fratelli hanno bisogno anche e soprattutto in questo momento, in cui molti di loro sono soli, non hanno nessuno, molti di loro li ho sentiti stamattina esclamare dicendo tanto la nostra vita non ha già un senso, qualche altro invece è preoccupato per le sorti della propria famiglia che magari non vede anche da tanto tempo. Ed è bello che questo lavoro sia anche concertato con il comune, non solo di Bari, ma anche di altri comuni della nostra diocesi. È bello che la Caritas si renda presente in queste reti di accoglienza, di solidarietà, magari favorendo anche il fatto di portare la spesa a casa soprattutto di alcuni ammalati o persone sole, portare un farmaco, ecco, secondo le diverse esigenze. Proprio per metterci comunque in ascolto, abbiamo proprio da oggi avviato un servizio anche telefonico, una sorta di telefono amico, abbiamo chiamato io resto in ascolto, c'è il numero della Caritas diocesana 080 523 73 11 in cui tutti i giorni, da lunedì al sabato, dalle 10 alle 12, dalle 18 alle 20 ci sono dei volontari che stanno lì e ascoltano volentieri e ci sono anche dei professionisti disponibili che ascoltano volentieri chi magari si rivolge a noi con questi sentimenti anche di paura, di smarrimento, perché sicuramente va contenuta ed elaborata anche questa paura. E poi penso all'impegno della Casa dei Padri Separati, Osa, che abbiamo a Modugno, penso alle fondazioni anche che ci sono sul nostro territorio diocesano, la Fondazione Antiusura, la Fondazione Giovanni Paolo II e la Fondazione Opera Santi Medici di Bitonto hanno tutte queste realtà anche dei servizi particolari, l'ultima ad esempio ha una casa alloggio per malati di AIDS, un hospice per malati terminali, una comunità terapeutica, ecco sono servizi dedicati e delicati che hanno bisogno di un di più di cura e di attenzione in questo momento. Ecco, la carità non si ferma, la carità vuole essere più forte di questo virus e permettetemi un pensiero particolare anche a quei primi, grandi, insostituibili centri di carità che sono le nostre famiglie, soprattutto quelle famiglie in cui c'è magari un ammalato, una persona sola, un figlio disabile o un genitore disabile, in cui c'è quella carità ordinaria senza della quale il mondo salterebbe, ma non a causa del virus, anche molto tempo prima. Don Vito, la ringrazio di cuore per le sue parole, grazie per questo quadro completo di quello che accade appunto nella Caritas diocesana di Bari-Bitonto, senza naturalmente dimenticare quello che accade anche nelle altre diocese. Certo, certo, perché sento, ripeto, a volte personalmente faccio un po' di fatica a dirle, a renderle note queste cose, è giusto però saperle, perché tante volte oggi magari vedo in giro c'è solo una preoccupazione, no? Che viviamo tutti quanti comunque, non si celebra l'Eucarestia, questo è fonte di tristezza per tutti quanti noi, speriamo di poterla ritornare a celebrare a breve, ma non dobbiamo dimenticare che la preghiera e la carità comunque viene vissuta dalla Chiesa e questo aspetto di prossimità è essenziale. E mi piace pensare non solo, ripeto, alla Caritas che personalmente dirigo, ma anche alle tante altre Caritas con i miei amici sacerdoti e laici anche di Puglia, perché siamo un noi, ecco, non siamo degli eroi solitari, siamo comunità, siamo Chiesa anche in questo momento particolare. E grazie per essere stato con noi, buon lavoro a Don Vito Puccinon. Grazie a voi, grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori.